Questo è cieca Tony, gli occhi sono ormai rovinati, completamente persi e questo oltre che perso è tutto ulcerato, deformato, quasi quasi sembra che vuole uscire dall'orbita, vabbè questo ha una catarrata vecchia, il cane è sicuramente superato, diciamo che è stato abbandonato proprio perché è malato e la pancia? Sicuramente, pancia grosso, ora vediamolo, ma qualche problema, facciamo un'epografia, sono male, per vedere che non sia, nonostante la sua età, ora non si è incinta pure, Sicuramente perché è legata all'età o alla muscolatura ormai lassa, il fegato sembra apposto dal punto di vista ecografico, tranne una struttura leggermente insomogenea, comunque per l'età che ha, ma non ci sono cose strane, fermo restando che adesso dobbiamo fare un check up dal punto di vista ematologico e da lì riceviamo se c'è qualcosa, è quello che viene fuori. Ok Ok Qua ha un'ucela profonda, ma vecchia vecchia proprio, diciamo che è stata trascurata, è abbastanza, ok Grazie Grazie